Al di là dei grandi attaccanti, dei grandi campioni, ci sono anche tanti grandi uomini. Io posso pensare a Paolo Maldini, a Alex Del Piero, a Javier Zanetti, lo stesso Daniele De Rossio, Francesco Totti. Quindi io vedendo loro, e anche un po' ancora prima, quello che succedeva prima quando guardavo le partite con mio papà e guardavi questi giocatori che stavano tutto il tempo dalla loro vita calcistica con la stessa maglia. E poi a me è capitato, durante la carriera, che mi ricordo, ora faccio un nome, Alexandro, perché è uno dei più recenti, ma anche prima di giocatori stranieri soprattutto, che erano abituati a cambiare, campionato, maglie e quant'altro, e mi dicono, ma tu veramente, ho letto la tua storia, ma tu sei qui dal 93, sempre con la stessa maglietta, ma non hai voglia di cambiare, di vedere qualcosa? E io faccio, guarda, per me il mio sogno era quello di indossare la maglia dalla mia squadra del cuore, e quindi finché posso indossarle, dare tutto a me stesso per questa, per me è una gioia immensa.